cominciamo bene siamo a riva Trigoso c'è la mareggiata che non è come mi aspettavo ma comunque è abbastanza notevole lì c'è lo scoglio abbiamo onde di 2 o 3 metri quelle in sessione sono una bella serie che arrivano adesso perché c'è un po' di succhio io come sempre vado a rischiare di bagnarmi ecco queste di nuovo sono venuto qua lì dietro e sono convinto che adesso rischierò di farmi la dovuta corsetta ecco ecco quella lì potrebbe essere una di quelle onde che bisogna correre vedete ecco ecco qua lì dietro potrebbe essere una bella onda tenete presente che qua praticamente c'è lo scalino che va giù ecco questa qua quella dietro sono forti e praticamente rende ecco correre un pochino ecco questa qua è una onda da 4 metri lì dietro c'è un po' di movimentazione ecco questa è una bella serie di nuovo soprattutto quelle dietro ecco non so se le potete vedere proprio lì dietro ecco eccole ci siamo ecco questa è una bella serie da guardarvela tutta e queste con talvità saliranno guardate che movimentazione torno indietro qua abbiamo 4 metri e mezzo di onda con quella dietro da 5 guardate che roba questa è veramente spettacolare anche qua non ancora bloccato perché qua è un bel pezzo eccola 5 metri con questo chiudo il video da Liva Tregoso mareggiata oggi è tutto